Eccoci arrivati Questa Sarà la vostra Nuova casa Wow E' veramente enorme Si Quanto viene? Viene molti soldi Vieni Faccio il conto D'accordo Bambini? Si mamma Voi mi raccomando state molto attenti Non fate casino ok? E non entrate senza mio permesso Ok ci sono io a badarli Bravissima Andiamo Wow Questa casa devo dire è bellissima Già Non vedo l'ora di vedere il dentro Sarà super spaziosa Certo c'è pure lo scivolo Wow non vedo l'ora di vederla Beh anch'io E ricordatevi non fate i casini Chiaro? Perché devo essere nella vostra responsabilità E stai calma Sì sì Fai come ti pare Va bene Aspettiamo nostra madre Che faccia il conto Ah d'accordo L'abbiamo capito Non siamo sceme Cioè scemi Scusa Luke Non mi era scordata che c'eri tu Ah ah Molto divertente Ok ragazzi Possiamo entrare Bene Buon divertimento Grazie Ho già arredato tutto eh Mi raccomando Ma la chiave È già dentro È aperta Forza Entrate Aiuto Ah Stai bene? Sì sì Saltato il gradino Entriamo Non facciamo come i nostri Aia Le mie Oli Vieni Luke Ok Wow È veramente spettacolare Ho fatto bene a pagarla Quanto l'hai pagata? Ehm Ecco Ehm Allora L'ho pagata Un milione di euro Anche tre milioni Cosa? Eh? What? Ehm Sì Purtroppo sì Ma Non importa Andiamo Cioè io Io sistemo le cose Di sopra D'accordo Guardate C'è anche lo specchio Wow E ci sono anche degli oggettini È vero Ah Beh Io vado in camera mia La solita Dai Questa casa devo dire È meravigliosa Non ho mai avuto una casa Più spettacolare di questa Sono veramente colpita Beh anche io Ci sono tre specchi Uno come questo Uno questo E uno questo Abbiamo tre specchi Mamma Che c'è di sopra C'è una bellissima biblioteca Di sopra c'è anche lo scivolo Volete provare? Sì Andiamo Blitz Stella vuoi venire? No Grazie Lo scivolo è da poppanti Io non sono da poppanti come voi Ora solita Andiamo Blitz Eh Luke Volevo dire Scusami Andiamo Wow È meraviglioso Sì Salgo prima io Sei prontissima È stato veramente forte Oh Lo specchio Mettiamolo qui là Se no Blitz Devi provare Oddio Devi provare Fantastico Ok Se me la porti Oh È vero Guardo Togliti Ok Pronto? Sì 3 2 1 Wuhu Ah 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 È stato troppo forte È vero Che ore sono? Mamma che ore sono? Eh Sono le 9.50 Ok Per poco andiamo a dormire Domani è il primo giorno di scuola Wuhu Vuoi dire dopo domani? Eh vorrei dire Sì Dopodomani Oggi è sabato Ah Non vedo l'ora Di Ehm Di andare a una scuola Sono sicura che incontreremo tantissimi amici E non vedo l'ora di studiare Ehm Ah ah Diare è una noia Perché invece non ci dedichiamo al trucco Ah è la mia passione da sempre Wuhu Chi potrebbe non accettare il trucco? Ehm 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 È vero Pensate solo a divertirvi Non pensate Diciamo a Al trucco Voi pensate solo allo scivolo Ma prima hai detto Che ci volevi venire Cioè in pratica Non hai detto Non ha detto che Ci volevo venire Ho detto solo Che Ehm Era bello tutto qui Per voi era bello tutto qui Hai ripetuto Chi se ne fotte di chi Eh se ho ripetuto Se o no Scusate per i termini D'accordo basta Ehm Tesorini Hora di andare a dormire Eh Ti pareva Oggi non vi racconto io La favoletta della buonanotte Ma non ci serve Forza bambini D'accordo Andiamo Aspetta Fermi Fermi Cosa c'è Aia Mi sono fatta male Dormite qui Perché La vostra camera Devo aggiustarla Cioè sistemarla Ti pareva Devo dormire con voi Per forza Devo levarmi tutto Ah Ok Buonanotte ragazzi Buonanotte Continua Aia 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 Grazie.